ciao amici oggi vi parlo di un altro problema oltre a quello che vi lascio nei commenti e linkato qui sopra che ho trovato lavorando con power automate cioè dovevo banalmente salvare un file excel e utilizzando lo step excel salva in foglio salva excel pratica permette di salvare una istanza excel che creo durante questi flow pensavo di poter dargli un qualsiasi percorso per salvare il file quindi entrando nei dettagli di questo step io gli dico utilizza l'istanza excel che sto utilizzando in questo flow e mettila in un determinato percorso ora questo percorso che vedete qui in realtà prima e volevo fosse semplicemente un c2 punti slash un qualche nome di variabile ok che in questo caso nel mio che in questo caso era codice commessa bene un tipo di salvaggio in questi termini non funziona perché power automate è abilitato a scrivere solo in alcune cartelle di sistema dunque piuttosto che dargli un percorso assoluto in questi termini necessario prima passare per un'altra variabile che concatena al codice commessa che quello che voglio usare per dare il nome a un file un'altra cosa è che cosa questa questa variabile che ho chiamato special folder path desktop in realtà che cos'è è una variabile che si chiama special folder path declinata su desktop che io ho nominato in questo modo vi faccio vedere a cosa faccio riferimento quindi il file lo vado a salvare in questo part completo dunque codice commessa concatenato a questa variabile questa variabile io la riesco a ottenere come definendo uno step specifico che prendo da qui che si chiama in realtà special ma aspettate che la recupero cartella speciale se magari scrive in italiano è anche utile questo qui in pratica questo step di ottieni cartella speciale viene utilizzato come possiamo vedere qui per recuperare le cartelle di sistema più comuni sulle quali poi posso andare a scrivere quindi in questo caso ho scelto desktop però potevo scegliere dati applicazioni musica eccetera eccetera sono tutte cartelle di sistema piuttosto che documenti che può essere anche utile sono tutte cartelle di sistema sulle quali posso scegliere di arrivare in qualche modo che mi può servire come nel mio caso per depositare un file e in questo modo riesco a ottenere il percorso assoluto alla cartella che diventa però scrivibile quindi piuttosto che dare un percorso assoluto dicendo a questo step salva il file excel in questo percorso io mi costruisco il percorso assoluto in questo caso su desktop ottenendo prima il riferimento a una cartella speciale quindi step cartella speciale spostato all'interno del mio main così configurato cioè voglio che arrivare sul desktop il percorso della cartella speciale è questo qui lo vado a ricavare in questo modo e produco una variabile che chiamo in questo modo io l'ho chiamata la potete chiamare un po' come volete voi però mi piaceva usare una nomenclatura in linea con la special folder path che è la nomenclatura standard concatenata con il percorso a cui voglio arrivare quindi desktop vi consiglio per un discorso di pulizia di fare nello stesso modo e poi dunque il vero e proprio salvataggio dell'excel lo faccio concatenando a questa variabile il nome del file nel mio caso codice commessa .xlsx così vi assicuro che funziona spero che sia utile anche a voi questo brevissimo tutorial e non vi faccia perdere tempo come ho fatto io non che abbia perso tantissimo tempo però meglio 4 minuti che andare a cercare su internet chissà che spero signori se avete dubbi o altro lasciatemi nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile ciao a tutti